Andiamoci a una mossa. 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 Per me mi servirebbe un bel caffè ora. Ricarico! Questo non è solo un cedimento, dobbiamo ancora scoprire le forze in gioco qui. All'apertura! Questo sì che è un buco. Dite che è da lì che provengono? Levatevi di mezzo! Visto che roba! Devo ricaricare! Con tutto questo casino non ci vorrà molto prima che arrivino gli infestati. È la versione Splatter di cercare un ago nel pagliaio. Non ce l'ha appena. Ah, ma che sorpresa! Gli infestati non sono magicamente spariti. Ua! Prima di tutto, ammazziamo qualche infestato. Sono totalmente accerchiata! Ma che cazzo? Oggi non è... State indietro! Sono una campionessa di baseball, sai? Sono andata. Serve a me. C'è un mirino. Caricatore! Che cos'è? Sbaglio si fa sempre più difficile. Kit medico. Non c'era il nome di nessuno. Non c'era il nome di nessuno. Ora un'ai... Come? Prego! Master. Ragazzi! Mi serve aiuto! Sono un uguale! Alla testa! Mi serve aiuto! Pensi che sia sempre di tutti? Quanto amistante! Mi serve una mano! Tieni pure. Ehi ragazzi! Grazie! Oppone a terra! Ricarico! Aiuto! Qui! Non muoverti. E soprattutto non parlare. Potevo morire laggiù. Fai visita a domicilio? È da ricucire. Basta prignare. Che c'è ora? Grazie. Non voglio prendermi un'infezione. Arrivatevi di mezzo! Devo ricaricare! Mellezione, oh! Basta! Io non aspetterò. È per me. Sembra che serviranno. Mi serve! Laggiù! Può andare peggio. C'è uno tsunami di infestati in procinto di abbattersi sulla zona. Ricarico! È per me! Passati! Risco in mezzo agli occhi. Di dietro! Ricarico! Sono circondata! Ricarico! Sto finendo i colpi E' una novità La, ci sono Ben Andiamo, prima che torni Quasi a secco, è per me Ben, la settimana scorsa non era così Laggiù Ma non c'è Dolly Ehi, ho bisogno d'aiuto Aiuto Vento Signor Ocran, le serve aiuto Grazie, dobbiamo trovare gli altri Questo sì che è un buco Dite che è da lì che provengono? Che cos'è? Occhio al pranzumatore Devo ricaricare C'è ancora un pozzolo là fuori Medicine Dobbiamo trovare Bob Se vogliamo entrare Si apre Dobbiamo trovare Bob Là Vado, amico Cuocchi di copertura Ehi, ecco qui Grazie mille Bisogna ricucire Bisogna ricucire Con tutto questo casino Non ci vorrà molto Prima che arrivino gli impestati Pochi colpi Laggiù È una granata In arrivo Di qua Ricarico Ricarico? Sei un medico Deve far star meglio la gente No, per Ultimi colpi A terra Alla festa Ehi, aiutatemi Che cos'è? Una granata Avrò bisogno di altri proiettili Temevo di non farci Ehi, non è divertente Ecco Grazie Non c'era il nome di nessuno Delle medicine È fantastico cosa si può fare Con ago e filo Troppo errore Dai Vediamo all'interno Dio ci aiuti Ehi, aiuto Ehi, aiuto Uccelli Sono topi con le ali Le mani Cazzo Grazie Sì Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, 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 sì. Sì.